Episodio di violenza ieri sera in centro storico a Fano. È successo in via Giorgi intorno alle 21.30 quando un uomo di 41 anni, fanese, già noto alle forze dell'ordine, si è scagliato contro la proprietaria del ristorante Amo e Lievito, situato davanti alla sua abitazione, lanciandole una bottiglia di birra. Immediato l'intervento della polizia, chiamata dalla donna, ma al loro arrivo l'uomo si è alterato maggiormente, aggredendo gli agenti che, riusciti poi a fermarlo, lo hanno condotto in commissariato. Non ancora ben note le cause che hanno spinto l'uomo a compiere il gesto, anche se si ipotizzano disaccordi e precedenti pregressi con la ristoratrice. L'aggressore è stato processato stamattina per resistenza, violenza, oltraggio e minaccia pubblico ufficiale ed è in attesa della convalida dell'arresto, prevista per il mese prossimo. Grazie. Grazie.